e ciao ragazzi bentornati sul canale del coach sì finalmente ci ritroviamo in palestra allora come visto dal titolo qui l'argomento di oggi è la cellulite la cellulite come già sai è una malattia vera e propria io ho studiato una strategia per andare a intervenire e a lavorare sotto questo punto quindi se guardi bene questi sei esercizi che adesso oggi ti farò vedere dovrei ripetere per tre volte a settimana e per almeno un mese questo ovviamente questi tre esercizi da inserire nella tua programmazione nel tuo allenamento nella tua scheda e comunque se hai bisogno di me basta che mi scrivi sotto e ne parliamo quindi se sei pronto iniziamo ciao ragazzi quindi mentre guardi un attimino come si stanno svolgendo gli esercizi ti devo dire che chiaramente in tutto questo anche la tecnica fa la sua importanza perché fare un esercizio mi ripeto sempre su questa cosa fare un esercizio in maniera corretta ti aiuta effettivamente a raggiungere ancora prima il risultato anziché farlo scorrettamente e quindi portandoti non solo a non avere il risultato ma addirittura magari a provocare qualche infortunio invece un'altra cosa molto importante ragazzi è anche il tempo di recupero quello che ho previsto io in questa strategia vanno dai 30 ai 60 secondi di recupero ma poi anche usare quello che ti serve se ti serve veramente recuperare meno un po di più farlo e come ti dicevo all'inizio ragazzi questo è una sequenza una strategia che puoi inserire effettivamente tre volte a settimana in un tuo programma in una tua scheda ovviamente questa scheda andrebbe vista un po più attentamente magari se hai qualche domanda perché lo so che ne hai qualcuna magari prova a farmi raggiungere i commenti proviamo a ragionarci insieme a capire effettivamente come poter inserire al meglio questa strategia un'altra cosa che posso aggiungere ragazzi è che se ci sono dei problemi se non riesci ad eseguire questa serie di esercizi magari qualcuno ti viene più difficile da praticarlo anche qui effettivamente potrei darti mille consigli ma poi effettivamente il soggetto fa tutta la differenza quindi anche qui ragazzi se proprio mi senti di voler fare questa tipologia di programma scrivi sotto nei commenti se ti può essere utile sotto nel box nelle descrizioni ho messo vari link ai miei tutorial o alla maggior parte di esercizi di primo impatto quando ci si arriva in palestra quindi si interna gli esercizi fondamentali del fitness per far sì che tu li possa eseguire in tutta sicurezza sotto troverai tutti i link appunto e quindi ragazzi siamo arrivati alla fine se ti è piaciuto il coach mi raccomando lascia un bel like oppure se vuoi proprio esagerare ti iscrivi al canale se pensi di poter utilizzare questa programmazione iscrivimi magari ne affrontiamo insieme mi ripeto io ti dico grazie di essere stato da queste parti e ci vediamo alla prossima e allenati bene ciao